Senti, Raimondo, ti aspettavi il successo di Igor Tudor alla Lazio? Anche lì si parliava di uno spogliatoio, Felipe che se ne voleva andare dopo aver segnato il gol, sembrava ci fosse anche lì una polveriera, invece adesso Tudor fa 21 punti in nove partite, sono in zona UEFA, cosa che sembrava non potesse essere più raggiunta? Allora, io parto da un presupposto, secondo me Sarri ha fatto un lavoro straordinario alla Lazio, l'anno scorso è arrivata seconda a Lazio, è arrivata seconda e quest'anno purtroppo ha avuto le mancanze di diversi calciatori, mobile in primis ma anche Zaccagni che non c'era avuto, e quindi ha sofferto, sicuramente ha sofferto, probabilmente il cambio, qualche calciatore era con la testa piena forse e quindi il cambio da questo punto di vista ha giovato. Tudor fa un calcio chiaramente differente da quello più ragionato del mister Sarri, però Tudor ha dimostrato già di essere un allenatore che sa, che vale, e quindi onore a lui che sta facendo un buon finale di campionato, detto ciò, un buon finale di campionato, però non credo che stia facendo cose straordinarie, penso che il valore della Lazio sia quello, quinto, sesto, settimo, onestamente il valore della Lazio è quello. E l'anno scorso che è andato oltre attraverso quel secondo posto, che secondo me rispetto al valore della squadra è veramente straordinario.